Buongiorno, siamo un movimento di disoccupate del rione Sanità, siamo nati da qualche mese, siamo venuti oggi per bloccare la municipalità per dire i nostri problemi come altri. Diciamo che il sindaco è da qualche mese che non ci riesce a ricevere, abbiamo mandato più di una volta un invito per farci parlare con lui e per dire quali sono le nostre difficoltà, teniamo dei progetti che vogliamo condividere con lui, ma ancora non ci sta risposta. Quindi oggi abbiamo deciso di occupare la municipalità per avere un incontro con il sindaco. Per fortuna dopo qualche ora è arrivato il presidente della nostra municipalità che ci ha accolti con quello che doveva fare il sindaco e invece l'ha fatto il nostro presidente della municipalità. Abbiamo chiesto questo incontro e lui ci ha fatto una lettera che teniamo nelle nostre mani. a breve ci dicono che ci darà questo incontro dove noi stiamo dicendo a gran voce che ci manca molto la manutenzione del verde del nostro quartiere, ci mancano gli spazi pubblici per i bambini ed altro, non voglio andare oltre queste cose. Noi 14 saremo comunque in piazza per manifestare questo debito pubblico che ci portiamo da un sacco di tempo. Siamo un bel gruppo che stiamo iniziando a crescere anche sul quartiere e non ci fermiamo qua. In settimana faremo altre occupazioni, iniziamo sul nostro quartiere e dove spero che altri cittadini ci possano aiutare.